salve amici oggi parleremo di Einel te cg 18 li solo la pistola con la caldo a batteria negli ultimi anni Einel ha presentato questa linea power exchange che con la stessa batteria possiamo alimentare tantissimi dispositivi tra cui questa pistola con la colla a caldo l'abbiamo provata per alcuni giorni devo dire che è davvero ottima e soprattutto la batteria dura e permette di fare un bel po di lavoro vediamo un pochettino quello che include la confezione all'interno della confezione manuale di istruzioni multilingue naturalmente e vediamo tutto il resto alcuni stick per la colla ed il prodotto ed eccolo qua questa versione è venduta senza batteria la batteria può essere acquistata separatamente abbiamo due boccucce che li possiamo chiamare che ci permettono appunto di utilizzare la pistola a caldo in vari modi eccola stringiamola con la chiave in dotazione e proseguiamo finiture plastiche ottime davvero belle ergonomicità molto leggera naturalmente poi tutto dipende dalla batteria che noi andiamo ad utilizzare il tasto d'accensione naturalmente l'attacco universale power exchange è naturalmente dove viene inserito lo stick da 11 mm inseriamo la batteria noi abbiamo provato con la base piccola batteria ma ce ne sono tante ecco accendiamo la pistola anche un comodo led che ci permette di illuminare dove stiamo lavorando la pistola in alcuni secondi è già riscaldata e quindi è pronta per il funzionamento quando il led diventa verde anche un sistema di protezione quando riscaldo viene inutilizzata si spegne da sola quindi attendiamo che riscaldi la colla una volta che la spia diventa verde è pronta per l'utilizzo anche un'uscita costante vedete abbiamo consumato in modo quasi continuo tutti gli stick che erano in dotazione erano 5 devo dire che la praticità di lavoro è ottima e di batteria di questa piccola abbiamo consumato appena una pack spero che questo video è stato di vostro gradimento iscriviti al canale alla prossima prodotto consigliato